Il nostro chiede è un'altra parte della città che è frequentata la pavocca di un'altra città. Io me la passavo meglio con Scinart. Invece no. Vai a lavorare con Orlandelli perché lui, lui è il futuro. Dovevo capirlo che quel nono malefico del senatore mi ha chiesto di fare 700 fotocopie dell'intero programma per poi buttarle. Per non parlare del fatto che devo portare in giro i suoi nipoti. Ma che cosa mi sono laureata a fare? E ancora non ho visto un soldo. Io non ce la faccio. Non la posso sentire con quella vocina fastidiosa. Signorina mi porto il cappello. Signorina mi dirà dei documenti. Mi sta facendo venire le scuole. Non sapevamo niente ma che cosa mi ha fatto. Fede la paragonata. Senti ti va un po' il pino? Senti ti va un po' il pino. Grazie a tutti.